Domani sera Pesaro saprà qualcosa di più del futuro della sua sanità. Dalle 16 del 4 maggio è infatti previsto il Consiglio Comunale monotematico su politica sanitaria e realizzazione nuovo ospedale a Muraglia con la presenza a Pesaro del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Si punta dunque ad avere chiarimenti dall'amministrazione regionale deputata alla politica sanitaria del percorso attuale fra problematiche del personale, mobilità passiva, riapertura di reparti a Pesaro e il tema futuro della realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia. Oltre agli ordini del giorno dei consiglieri è prevista anche mezz'ora di intervento di Acquaroli e mezz'ora di Ricci che sul nuovo ospedale ha più volte chiesto che una volta individuato il contenitore, ovvero Muraglia, si chiarisca il contenuto. Se ne saprà di più anche per quel che riguarda i tempi di un plausibile cronoprogramma. Intanto si cominciano a definire i servizi da trasferire in previsione dell'avviamento del Maxi Cantiera Muraglia. Soprattutto l'Asur si avvia un trasloco definitivo di servizi quali Psichiatria, che andrà al Santa Croce di Fano, la RSA Tomasello che passerà a Santa Colomba e due comunità protette che andranno in direzione Monbaroccio. Altri servizi rientreranno ad Asur nella nuova sede che si sta cercando in alternativa alla vecchia sede di corso 11 febbraio. Ci saranno poi servizi che passeranno al San Salvatore come le degenze di ortopedia, ematologia, diagnostica senologica o diabetologia.